Weee! Non fare il babbo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra, sul tasto, supporta un creatore ed inserisci XIODARONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video! Io sono XIUDAR e ragazzi, missione per le sfide Rimediu vs Tossina Ci chiede di trovare tre fermate degli autobus in una partita singola La prima ragazzi, eccola proprio qua, facilissima da vedere sulla mappa Siamo nelle coordinate E3 e si trova esattamente vicino al ponte Viola Fermata numero 1 fatta! Per quanto riguarda invece la seconda fermata dell'autobus Dovete raggiungere Parco Pacifico Vi ricordo sempre in un'unica partita, almeno questo è quello che leggo nelle sfide E si trova esattamente nell'angolino sinistro di Parco Pacifico Facilissima da raggiungere Niente di strano, fermata numero 2 fatta! E siamo arrivati anche all'ultima fermata dell'autobus Da Parco Pacifico scendete direttamente fino a Borgo Bislacco Raggiunto Borgo Bislacco esattamente all'esterno Quindi Parco Pacifico sta di là Raggiungete la fermata dell'autobus Che si trova esattamente nell'angolino di Borgo Bislacco Fermate completate Missione fatta Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video Un bel pollicione in su Iscrivetevi ai canali Noi siamo in live su Twitch Ciao!